L'isola non li isola, aiutateci. Il nostro sole non li lascia soli, aiutateci. Il nostro sogno è soddisfare il bisogno, aiutateci. Sempre più ischitane si trovano in difficoltà economiche. Molti nostri amici e parenti sono senza lavoro, senza sussidi sufficienti, soli con il loro bisogno. Aiuta la catena alimentare a donare cibo agli ischitane in difficoltà. Contribuisci a rendere il loro Natale meno drammatico. Aiutaci ad aiutare col vaccino della generosità. Aiuta la catena alimentare ad aiutare ora. Fai una donazione con un bonifico o chiamaci per darci il tuo aiuto. Grazie. Grazie.